Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale. Il trailer di Bowser's Fury ha mostrato tantissimo gameplay dell'espansione che accompagnerà la riedizione di Super Mario 3D World su Nintendo Switch. Oggi andremo ad analizzare nel dettaglio tutte le scene per scoprire i dettagli che si nascondono all'interno della presentazione e magari lanciarci anche in qualche speculazione su quello che sarà il gioco finale. Se questo genere di video vi piace mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Bowser's Fury sembra rivoluzionare drasticamente l'impianto di gioco di Super Mario 3D World avvicinandosi tantissimo all'open world di Super Mario Odyssey. Secondo alcune speculazioni infatti si tratterebbe di un DLC previsto inizialmente per Odyssey che in seguito è stato riconvertito come espansione per la remaster di prossima uscita. Con Odyssey Bowser's Fury condivide l'impostazione open world. I livelli a progressione guidata di 3D World cedono il posto a un'unica grande mappa ricca di sezioni differenti. Da questa prima inquadratura panoramica possiamo notare come il livello si è diviso in tante sezioni differenti, delle vere e proprie isole separate tra di loro e come ognuna di queste molto probabilmente presenterà un tema centrale che si svilupperà autonomamente. Ad esempio nella zona che si vede in lontananza l'ambientazione sarà tema innevato e il gameplay proporrà delle sezioni di platform incentrate principalmente sulla navigazione di muri e percorsi invisibili. A ogni zona è associata poi una torre che svetta imponente. Tutte queste costruzioni sono ricoperte sulla sommità da una sorta di melma scura o vernice che possiamo identificare come la furia di Bowser. Mario al momento si trova sulla cima di una torre ripulita e possiamo ipotizzare che il compito principale sia quello di liberare ognuna di queste costruzioni per far sì che il guscio di Bowser piano piano si sollevi e alla fine si rompa per far uscire Redekupa. La sommità della torre ricorda la testa di un gatto e come è palese questi felini rappresentano il tema centrale dell'espansione. Non solo il power up di Mario Gatto, la vera novità di 3D World, assume nuovamente un ruolo fondamentale nel gameplay ma tutto quanto rimanda ai teneri felini. Gli edifici, i nemici e persino gli alberi sono dei gatti. Anche gli uccelli sono stati trasformati per ricordare questi animali e data la colorazione dei gatti che si stringono intorno a Mario per fargli refusa possiamo pensare che si tratti degli altri personaggi giocabili dell'avventura principale tramutati in felini da chissà quale maledizione. Questi torneranno poi anche in versione malvagia una volta che Bowser sarà liberato dal suo guscio. Negli scenari è possibile vedere anche diversi NPC, sempre gatti, che probabilmente ricopriranno un ruolo di supporto durante la storia e magari approfondiranno anche la narrativa dell'episodio aggiuntivo. Interessante che lo spostamento tra una zona e l'altra sia effettuato tramite plessi, il dinosauro apparso per la prima volta proprio in 3D World. Analizzando bene gli scenari è possibile notare come nelle distese d'acqua siano presenti dei veri e propri percorsi da fare in sella all'animale, che presenta anche diverse possibilità di navigazione, tra cui una sorta di immersione e un salto con scatto. Dai movimenti di Mario è possibile intuire che la telecamera seguirà dinamicamente il protagonista e che molto probabilmente sarà regolabile a piacere, sposando perfettamente lo stile dei Mario 3D free roam. Altro punto di contatto con Mario 64 Sunshine Galaxy Odyssey è la presenza di lune gatto da collezionare. Probabilmente disseminate nei livelli, queste permetteranno di progredire nell'avventura e sarà necessario un numero sempre maggiore di questi oggetti per ripulire le torri o magari far sì che il guscio di Bowser si sollevi da terra. Anche l'esultanza di Mario e Bowser Jr. è un chiaro rimando alla posa di vittoria dei precedenti capitoli, da segnalare però la presenza di un altro tipo di collezionabile più simile a delle medaglie, che potrebbe rappresentare un altro tipo di valuta necessaria per sbloccare Power Up o quant'altro. A proposito di Power Up, ritornano tutti i potenziamenti visti in 3D World e anche il moveset di Mario rimane pressoché invariato, se non fosse per il tuffo a mezz'aria, che sembra direttamente mutuato proprio da Odyssey. Altra grande novità è la presenza di Bowser Jr. armato del suo pennello magico, altro rimando a un pezzo importantissimo della storia di Mario, ovvero Super Mario Sunshine. Il personaggio non si direbbe giocabile direttamente, ma sembra più che altro un assistente controllato dalla CPU che può tornare utile sia in battaglia sia nell'interazione con alcuni muri per sbloccare dei Power Up, un altro rimando esplicito a Sunshine e la sua vernice. Da non escludere, la possibilità che sia implementata una sorta di co-op asimmetrica in cui un secondo giocatore può prendere il controllo di Bowser Jr., esattamente come accadeva con Cappy in Super Mario Odyssey. Una volta liberato Bowser, l'atmosfera cambia radicalmente, ma ci troviamo di fronte al boss di fine avventura? Probabilmente no, o meglio, potrebbe trattarsi di uno scontro che bisognerà ripetere più volte durante lo svolgimento di Bowser's Fury. Questo perché durante l'inseguimento è possibile notare in lontananza non solo alcune torri ancora corrotte dalla furia, ma anche una seconda campana gatto in lontananza, a indicare che probabilmente si tratterà di azioni da ripetere più volte durante il gameplay. La trasformazione poi in Mario Kaiju è semplicemente epica, peccato che non venga mostrato nulla dello scontro tra i due titani. Ci sono dei chiari rimandi al Dynamax visto in spada e scudo, ma anche all'estetica del Super Saiyan popolarizzata nei videogame da Super Sonic. Speriamo che Nintendo decida di condividere altri dettagli a riguardo prima dell'uscita ufficiale prevista per il 12 febbraio. Insomma, Poracci, quanto visto fino ad ora è veramente interessante e sicuramente avrà saputo attirare l'attenzione anche di chi ha già giocato Super Mario 3D World su Wii U. L'impostazione Open World fa pensare a un titolo a parte più che a un'espansione e a questo punto c'è solo da capire quale sia la portata di questo contenuto aggiuntivo. Quante ore di gameplay saranno necessarie per portarlo a termine, l'effettiva grandezza della mappa di gioco o magari se ci saranno più macro aree da completare e ripulire prima di affrontare Bowser più e più volte. Le aspettative sono alle stelle e a questo punto sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere se ci sono altri dettagli che magari mi sono sfuggiti e vi invito a seguirmi anche in live, mi troverete connesso stasera a partire dalle 21 e 30 sul sito Viola e su Instagram dove ho ricominciato a postare e a mettere le storie dove cerco di coinvolgervi il più possibile. Detto questo non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Bowser, Michele Sfiori, ciao! Ciao!